2 giri d'inferno per i nostri scatenatissimi esordienti Nati 2006 C'è da regolare un po' di conti perché fino ad oggi Mattia De Rocchi Le ha vinte tutte, farà la sesta, farà l'unplane, 2 giri per deciderlo, chiaramente non noi ma gli avversari Vai Mattia, vai Mattia Vai Mattia Vai Mattia Pian piano, con il suo passo, una rimonta alla Indurain, viene su col suo passo Un giro? Daniel Moruzzi Magna Aruncioni Approvati in questo primo giro a mettere in dubbio lo strapotere di Mattia De Rocchi, atletico a Muccio Ora il rettilineo di ritorno, vediamo cosa succederà Curva fatta E arrivano davanti la maglia è quella dell'atletica Muccio Il numero è il 5-3-2 Che sommato fa 10 ma lui oggi fa 6, anzi forse Fino all'ultimo Fino all'ultimo Fino all'ultimo Vai Mattia Mattia De Rocchi davanti a Daniele Moruzzi 2 campionissimi Una gara da manuale L'attacco in recupero e l'attacco finale nuovamente Senza tregua Vittorie così valgono doppio Complimenti a De Rocchi e Cucusta Che anche da piccoli hanno dato prova di grande agonismo E di grande capacità tutte le preparazioni delle gare